Il 22 ottobre a Tortoreto si terrà un'importante manifestazione sportiva. Di cosa si tratta? Salve, si tratta di una festazione sportiva di carattere agonistico del settore del podismo. Faremo una gara che è intitolata Quarto Trofeo Città di Tortoreto ed è intitolata un memoria al Paolo Giustini. Paolo Giustini era un ragazzo di Tortoreto che purtroppo è scomparso, che si occupava di tutti gli sport, anche della gestione di alcuni impianti sportivi ed è la sua abitudine percorrere tutte le vie di Tortoreto quasi quotidianamente correndo. Perciò abbiamo pensato di tornare a lui. Oltre alla manifestazione agonistica, quindi di podismo, ci sarà anche un percorso per non competitivi, quindi di circa 4 chilometri, che è aperto a tutti. Il percorso competitivo si svolge lungo il percorso che da Cavatassi, conto da Cavatassi e Tortoreto, arriva fino al borgo, cioè al paese. Lì ci sarà il giro di Boa per tornare di nuovo al punto di partenza, ovvero a Cavatassi. Vi aspettiamo numerosi, anche perché saremo lietati dalla presenza di un grosso personaggio nel mondo del podismo, che si tratta di Giorgio Calcaterra. Giorgio Calcaterra, per chi non lo dovesse conoscere, è un pluricampione di ultramaratone ed è una persona molto umile che ci onora della sua presenza. Quindi vi aspettiamo e saremo lieti di ospitarvi tutti, per l'agonismo e anche per la passeggiata non agonistica. Vuole dire il sito internet per chi vuole iscriversi alla gara? Sì, certo. Per fare le iscrizioni è bene rivolgersi e guardare il regolamento che si trova sul nostro sito, che è www.adriaticoteam.it, dove c'è tutte le informazioni necessarie per potersi iscrivere, sia la gara competitiva che non competitiva.